Torniamo alla due giorni di Champions League per parlare di Inter ma soprattutto per parlare di Perisic, risposta secca perentoria Padovan, è in crisi? Perisic? Sì. Sì. Preiti? Ma per me no, per me lavora molto per la squadra, probabilmente forse ci si aspetta qualcosina in più, ma io credo che il rendimento di Perisic è questo. Crisi o non crisi, non è il Perisic degli ultimi anni, delle ultime stagioni, però post mondiale a volte questo può capitare. Vediamo il servizio della nostra redazione. Servizio dedicato a Perisic ma anche all'Inter, un'altra parentesi, la cosa bella di Sportitale Mercato è che ci segue il mondo del calcio, procuratori, direttori, stanno andando ai messaggi, morbido, drago, leggerissimo, poi un altro mi ha scritto un'altra battuta simpatica. Adesso cacciano via Oddo, fallo smettere di attaccare il crotone che magari lo richiamano. No. Sempre gente del calcio, non faccio nomi, quindi scrivetemi tranquillamente che io riporto tutto in diretta, però sono simpatici. Questo è un direttore sportivo, prima era un procuratore, quindi fatti due calcoli, può darsi che ti possono neanche richiamare. No, ma come diceva la canzone di Vasco Rossi, non rifacciamo il letto ormai disfatto, no? E quindi ormai io ho dato, buonanotte. Ma ho dato, ma ho ricevuto. Ciao mister, grazie. Ma io non sapevo, non pensavo fosse così personaggio a Draghi, io ero tranquillo e un panchino, andremo con la seconda. Ma ho dato, ma ho ricevuto veramente... Ma vieni fisso, dove vivi? A Crotone? Io vivo a Crotone. Apriamo la redazione a Crotone, mi vieni tutte le sere in trasmissione? Ogni sera. Dove abiti a Crotone? Io? Il titolo di Lavia? Ma ne frega tanto, mica vengono sotto casa tua. Vabbè, sotto casa di Drago, gli portiamo una bella fibra, ci colleghiamo in diretta con Drago, ci va a fare degli ascolti clamorosi, perché parla soft, ma spara e dà nelle legnate a tutti! Bravo mister, ci piacciono! Allora, no, ma io penso che bisogna essere onesti e coerenti in quello che si dice e in quello che si fa. Se poi vogliamo continuare a nasconderci, a dire che ormai va tutto bene, lo diciamo. Bravo mister, così hai trovato la casa giusta, non casa tua, qua a Sport Italia. Peresic, è crisi, l'Inter cosa deve fare? Il freddo pedulare dagli studi di Roma, non dagli studi di Crotone, vai! No, ma non è crisi, però è 40% di quello che potrebbe dare, gioca troppa intermittenza. Quando poi pensi che l'Inter cerca un esterno offensivo e il sogno in Italia, magari giocando all'altra parte Chieso, segue Marziale perché su Peresic ha sempre resistito, ha curato le ferite, le ha medicate, anche sui suoi mal di pancia, però non è continuo. Ogni tanto stacca la spina e dura 4, 5, 6 partite, poi torna, fa due grandi cose e la ristacca per altre 3, 4 partite. Io credo che il suo vero grande problema sia questo, altrimenti sarebbe un calciatore da 70 milioni. Sì, ma Alfredo, secondo me, però, è un giocatore anche con qualche limite. Io ho la sensazione netta... Che ha qualche limite? Sì, che ha qualche limite. Nel senso, limite 1, l'hai detto tu, la continuità, ma anche qualche limite mentale, psicologico. Io penso che sia un giocatore che non abbia continuità perché non crede fino in fondo in se stesso. Io non sono dell'avviso di Michele che il giocatore risenta del campionato del mondo, perché il campionato del mondo l'ha fatto, ma non l'ha fatto bene, ma non l'ha fatto benissimo. Anche lì si sono viste le intermettenze di cui parlavi. Quindi, presumibilmente, dico la mia, io credo che sia un grande giocatore che è poco adatto al nostro campionato. Questa è la mia sensazione. Infatti, se lo mettessi sul mercato, ci sarebbe la fila. Eh, lo so. Malgrado tutto, e malgrado le considerazioni che io condivido, e malgrado questi limiti, e malgrado non giochi sempre da 7 più e ce l'avrebbe nelle corde, se tu lo mettessi sul mercato, ci sarebbe la fila, soprattutto dalla Premier. Dalla Premier sicuramente, perché è un campionato, secondo me, sostanzialmente diverso dal nostro. Io non sto dicendo, non voglio dire, perché non posso dire se meglio o peggio, ma certamente sostanzialmente diverso dal nostro. Un'altra cosa voglio dire, se l'Inter però pensa a Martial come un elemento che possa avere continuità, beh, secondo me sbaglia indirizzo. Alfredo? E poi il direttore Preiti? L'Inter pensa più a un profilo come Chiesa, ma credo che ci pensino in tanti. E poi dipenderà molto da questa famosa, c'è un tetto, e adesso ci vorrebbe una citazione di Drago, che mi troverebbe un altro Vasco Rossi, perché mi piacerebbe che Massimo Drago a ogni riferimento di mercato abbinasse una canzone, visto che è molto bravo a fare questa sintesi, e nella continuità chiese un 97, visto da tutti, come il salto di qualità per tutti. Però è chiaro che dalla Fiorentina ci vorranno almeno 70 milioni. Su Marsal sono d'accordo, perché non fa della continuità la sua principale virtù. Direttore? Secondo me si fa un processo a Perici, io non lo vedo così... No, è un processo, però stiamo analizzando un periodo di difficoltà. È un processo. Io l'ho sempre visto giocare sicuramente con prestazioni migliori, sicuramente. Però è un giocatore così, alterna delle belle cose a delle cose meno belle. Ha detto bene Alfredo, se fosse continuo, se giocherebbe sempre a grossi livelli, è un giocatore a 70-80 milioni. Questo è Perici. I giocatori croati hanno anche questi difetti. Sono bravi, hanno qualità, hanno delle espressioni, secondo me, giuste. Però Perici lavora molto. Sicuramente con Spalletti ha un tipo di gioco dove deve lavorare molto e probabilmente in fase di finalizzazione perde qualcosa. Io credo che il livello di Perici più di questo non può. Può migliorare qualche prestazione, ma questo è Perici. Longari dal touch, poi la domanda di Agata e capiremo per chi soprattutto. Longari! Con le parole di Simone Inzaghi, che ovviamente non è particolarmente amareggiato per la sconfitta, dice che comunque dispiace perdere, ma ha avuto le risposte giuste. Ovviamente per la Lazio il problema principale è quello legato ai tanti infortuni che stanno contraddistinguendo questo periodo storico con la scelta di quest'oggi che è stata quella di salvaguardare chi invece stava abbastanza bene e che di conseguenza sarà protagonista della prossima sfida. Sarà decisiva invece per la Roma la prossima partita perché come ha detto Giancarlo Padovan Pocanzi la gara contro l'Inter potrebbe decidere molto del futuro di Eusebio Di Francesco. Per Paolo Sousa non c'è soltanto la Roma, c'è anche il Southampton che sta pensando di cambiare tecnico. Domenica ci sarà la sfida decisiva. Se dovesse andare male ancora una volta per il Southampton Paolo Sousa riceverà un'offerta ufficiale per allenare quel club. Vedi, peggio fa Paolo Sousa e più lo cercano. Agata, la domanda per? Per direttore Padovan. Le prime tre della classifica nella prossima giornata di campionato affronteranno in trasferta tre avversarie ostiche. Secondo lei chi rischia di più tra la Juventus a Firenze, l'Inter a Roma e il Napoli a Bergamo? Ma tradizionalmente dovrebbe rischiare la Juventus per quello che è la partita con la Fiorentina, per come viene caricata, per le attese che ci sono, per la specificità, no? Vincere e battere la Juve per la Fiorentina, non dico salvare, ma valorizzare il proprio campionato. Quindi in pura teoria è la Juve che rischia qualcosa di più e perché rischia qualcosa di più, anche per la legge dei grandi numeri. È vero che vince sempre e ha pareggiato una volta, beh, prima o poi o pareggi un'altra volta o perdi. Quindi inoltre io sono un sostenitore, al contrario di Michele, del fatto che il campionato si possa riaprire non sia ancora chiuso e quindi penso che la Juve abbia una serie di partite difficili. Una delle più difficili è questa ed è la trasferta di Firenze. Quindi se mi chiedi quale delle squadre di testa rischiano di più, io dico la Juve. Dopodiché mi lancio anche un po', rischio anche un po', perché bene bene non sta né il Napoli secondo il mio punto di vista e neanche l'Inter. Eccolo qui, neanche a farla apposta, non ha visto la scaletta, Ancelotti, Spalletti, così lontani nelle stesse difficoltà. E il servizio è firmato da Valentina Ballarini. Eccolo il servizio è firmato dalla nostra Valentina Ballarini. Le difficoltà, faccio la domanda ai due allenatori, Drago prima, Mutti poi, ci sono delle difficoltà per Spalletti, ci sono delle difficoltà per Ancelotti, si sono un po' incartati, chi prima, chi poi, anche e soprattutto nella fase al girone di Champions. Drago? Ma io penso, per quanto riguarda Ancelotti, ho visto giocare delle partite del Napoli, io sono un estimatore di Sarri, perché l'ho incontrato, l'ho ammirato col Napoli, però ho visto giocare delle partite del Napoli a livello tecnico superiore a quelli dell'anno scorso. Ed è già un bel dire. Il problema è che c'è di fronte la Juve. A me piacerebbe vedere un campionato senza la Juve. La Juve che non fa campionato, che non fa classifico. C'è un altro 14 milioni di amici, tutto ok. No, ma purtroppo è la verità. Ma almeno una classifica. Questo è stato di stima. No, ma a me piacerebbe vedere un campionato senza la Juve, perché per me il campionato italiano per la Juve è un allenamento alla Champions. Cioè la Juve si allena col campionato italiano per fronteggiare la Champions. Perché rincorrere sempre una squadra, una lepre, come la Juventus, non è facile. Vincono sempre. Fa specie il pareggio della Juve. Purtroppo non pareggia mai, vince sempre. E quindi quando lo fa, fa rumore. Ma l'anno scorso non era così, mister, però. L'anno scorso il Napoli... Guarda la classifica. Ho capito, ma il Napoli è stato in testa per 19 giornate. Sì, ma... Questo è un campionato morte e sepolto. Poi Giancarlo può dire giustamente che si possa riaprire, ci mancherebbe, ognuno la può pensare come vuole. Ma la lepre l'anno scorso non c'era. Adesso è un campionato morto a ottobre e novembre. Mi sembra una bella differenza. Poi se dobbiamo andare per stereotipi, andiamo per stereotipi. Ma adesso siamo veramente in crisi. Siamo arrivati al primo di dicembre, tra qualche giorno, e non c'era lepre l'anno scorso. C'era almeno una parvenza di... Sapevamo che la Juve era più forte. Quest'anno è un disastro. C'è una differenza sostanziale. Dago, poi muti faccio pubblicitario, ha visto? Sì, però anche l'anno scorso, al di là delle ultime giornate, c'era il sentore che il Napoli avrebbe fatto l'impresa se avesse vinto il campionato. Cioè poi alla fine la Juve, a livello mentale, Alfredo, la Juve ti dà rincorrere. Non è facile. Io ricordo le dichiarazioni di Sarri, che diceva, si lamentava del fatto che la Juve giocava di sabato e loro giocavano di domenica. La Juve vinceva e loro dovevano rincorrere. Il Napoli ha perso il campionato perché, se non sbaglio, la Juve aveva vinto a Milano con l'Inter all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, e il Napoli, io parlo di aspetto mentale, la Juve a livello mentale è superiore. Ma tu stai parlando di aprile. Gentilmente mi fai vedere la classifica di oggi alla stessa giornata con quella dell'anno scorso. Tu sei andato troppo avanti, secondo me. Sto andando avanti perché sto dicendo che secondo me la Juve fa un campionato a sé. Per questo dico che piacerebbe vedere un campionato senza la Juventus. Sarebbe più bello. Tutti che dobbiamo andare a rifaccio pubblicitario. Eccola qui la classifica di giornata. Bortolo? Direi che non possiamo togliere la Juve al campionato. Sicuramente c'è un po' di rassegnazione da parte del Napoli, Inter e così via. Però è chiaro che per me Ancellotti e Spalletti stanno facendo un po' il massimo di quello che le loro squadre possono esprimere. Devo dire che il Napoli gioca meglio, esprime un calcio migliore, diverti di più. Però per me sono sul loro format. Più di così per me è difficile fare. Con una Juve che effettivamente è di un altro pianeta. Questo purtroppo, come ha detto il Ministro, rende il campionato chiuso. Un po' noioso. Un po' noioso. Soprattutto per la parte nobile della classifica. Agatha ci dobbiamo fermare. Destruccion. Un po' noioso. Un po' noioso. Grazie per la visione!